Musica Vorrei subito così lasciare la parola al sindaco Matteo Ricci che introduce con la sua relazione il dibattito di questo pomeriggio Pesaro 2030, Pesaro 2030, cioè la città del futuro. Prego. Perché questo evento? Perché abbiamo deciso di organizzare questo seminario, Pesaro 2030? Perché riteniamo utile rimettere al centro della discussione pubblica, non soltanto della discussione dell'amministrazione comunale, il tema del futuro e metterlo in questo momento storico, metterlo in questo momento storico nel quale finalmente dopo anni di grande recessione abbiamo realizzato la testa. Ovviamente ancora in giro è tanta la sofferenza, sono tantissime le difficoltà e quindi, come dire, lungi da noi non continuare a lavorare sulle esigenze quotidiane e di conseguenza sugli elementi di crisi quotidiana. Però non possiamo continuare esclusivamente nel lavoro importantissimo che abbiamo fatto in questi anni e poi proverò a ripercorrerlo brevemente, ma crediamo che sia necessario in questo momento specifico fondamentale rimodellare, alla luce della crisi economica che ha cambiato profondamente il nostro territorio, rimodellare il modello di sviluppo e di conseguenza lo sviluppo economico dei prossimi anni della nostra terra. Sindaco, allora, una progettualità che possiamo dire dietro l'angolo, in sostanza il 2030 è abbastanza vicino, no? Beh, questo è il momento di rimodellare il nostro modello di sviluppo. Abbiamo rialzato la testa dopo anni terribili di crisi, ancora c'è tanta sofferenza e difficoltà in giro, però abbiamo rialzato la testa. Quindi questo è il momento di progettare il futuro, avere un'idea strategica del nostro sviluppo. Quello che abbiamo iniziato a fare oggi lo vogliamo fare non solo per la città di Pesaro, ma anche per il territorio, confrontandoci con gli altri esponenti istituzionali, perché quando parliamo di nuove edilizie, di trasformazioni di grandi aere urbane, quando parliamo di infrastrutture sanitarie, di infrastrutture viarie, di arretramento della ferrovia, trasformazione dell'attuale sedime ferroviario in circonvallazione verde, quando parliamo di questioni strategiche come i porti, gli aeroporti, il modello di sviluppo è evidente che abbiamo bisogno di fare un territorio più ampio. Abbiamo avviato questo tema e credo che il confronto di oggi sia stato molto interessante, molto utile e continueremo nei prossimi giorni, perché mentre lavoriamo sui tanti investimenti che stiamo facendo, sullo sviluppo culturale turistico della città, sulla vivacizzazione della città e al tempo stesso su un impegno molto forte sul sociale e sulla scuola, dobbiamo progettare il futuro avere idee chiare, alcune cose hanno meglio periodo, altre hanno lungo periodo, altre lunghissimo periodo, ma questo è il momento per progettarle, perché altrimenti rischiamo di perdere opportunità e di avere tanta improvvisazione che non fa bene al nostro territorio. Ha toccato un termine per valutare il benessere di una comunità che si chiama BES, che cos'è, cosa vuol dire? Il BES è un indicatore sul quale da tempo stiamo lavorando, che oggi è un indicatore ufficiale per la legge di bilancio dello Stato. L'Istat ha individuato un indicatore più completo rispetto al PIL, che ovviamente misura la ricchezza, la crescita della ricchezza del PIL, perché senza PIL non c'è né lavoro né ridistribuzione, ma che oltre a quello misura la qualità ambientale, la salute e l'aspettativa di vita, il livello di disuguaglianze, la sicurezza sociale e di conseguenza misura la qualità della vita. Noi credo che abbiamo l'opportunità, nonostante la crisi pesantissima che ci ha attraversato, di essere uno dei territori in Italia dove è maggiore la qualità della vita e dove tutto sommato possiamo puntare sulla qualità della crescita, non solo quantità ma anche qualità, e quindi è su questo che dobbiamo muoverci in questo orizzonte con proposte molto concrete. Ho avanzato dieci punti sui quali iniziare la discussione e credo che siano dieci punti in gran parte condivisi ed è per questo che era importante svolgere questo momento e guardare il 2030 che è dietro l'angolo. Stiamo parlando di un periodo che è tra 12 anni, quindi immaginarci il nostro territorio tra 12 anni con i tempi che ha lo sviluppo, con i tempi che ha la burocrazia eccetera, vuol dire interrogarsi su qualcosa che è dietro l'angolo. Un'altra cosa che si tocca con mano nella sua amministrazione è l'accelerazione, la spinta fortissima che state dando, che sta dando lei con i suoi collaboratori al turismo. Credete tantissimo in questo concetto? Sì, crediamo innanzitutto in questa idea di Pesaro nazionale, cioè una città competitiva che comunica, che fa parlare di sé, che accende i riflettori su di sé come elemento competitivo. E questo ovviamente può aiutare in maniera particolar modo il turismo e i servizi, perché dobbiamo ristrutturare la nostra economia, far crescere turismo e servizi, significa come stiamo facendo puntare molto sulla cultura, siamo la città della musica e abbiamo questo binomio con Urbino, il patrimonio dell'UNESCO e città della musica dell'UNESCO, che può essere fondamentale per tutto il territorio, e siamo alla vigilia del 150esimo di Rossini, che sarà un grande volano per tutta questa strategia. Poi la città della bicicletta e quindi del benessere dello sport, è la terra dei piloti e dei motori, perché tra noi e la Romagna abbiamo un unicum mondiale sul quale possiamo lavorare tantissimo. Poi ovviamente abbiamo tanto altro e dobbiamo collaborare con Fano, Fano sulla romanità piuttosto che sul carnevale, Urbino per quello che ho detto, il grande patrimonio artistico che ha, tutto l'entroterra, però ogni città deve avere una sua specificità sulla quale costruire una strategia di marketing e di comunicazione che poi tenuti insieme valorizza l'intero territorio. Nella mente di Matteo Ricci, il futuro di Pesaro com'è, se vogliamo esprimere in un concetto? Io vedo un futuro positivo, perché il periodo peggiore l'abbiamo passato. La città si sta trasformando, sono tantissimi lavori in corso, tantissime le novità, abbiamo salvaguardato la coesione sociale, che era il vero rischio. Io ero terrorizzato dal fatto che questa crisi avrebbe stravolto la coesione sociale. Nonostante che ci sia tanta disoccupazione, ancora tante difficoltà, la coesione sociale è tutto sommato a retto, non è cambiato il nostro modo di vivere più di tanto. Questo è sicuramente un punto di forza, ma soprattutto adesso dobbiamo guardare il futuro, perché abbiamo rialzato la testa e adesso bisogna correre ancora più forte di prima. Fino adesso abbiamo resistito ed innovato, adesso bisogna soprattutto innovare e crescere, ed è questo lo sforzo che dovremo fare tutti insieme. Allora, una regione che svolge un ruolo sempre più importante, cascando, come dire, in ricaduta su quelle che sono le dinamiche poi di posti importanti, come Fano, come la provincia, come Pesaro, soprattutto che hanno come programmazione un lasso di tempo, poi non così tanto largo, perché insomma, come diceva il sindaco, il 2030 è dietro l'angolo. Sì, devo innanzitutto fare i complimenti alla città di Pesaro, al sindaco di Pesaro, anche a tutti gli altri sindaci presenti, per aver organizzato questa giornata. Devo dire che dall'intervento del sindaco di Pesaro ha ripetuto la parola regione veramente tantissime volte. Questo non è una cosa che avviene per caso, ma avviene sicuramente anche perché il ruolo della regione, soprattutto in questi ultimi due anni e mezzo, perché mi riferisco ai nostri, come dire, a questo mandato, sono stati veramente contrassegnati dal fatto di una forte presenza della regione direttamente sui territori. Questo non è avvenuto solamente per la città di Pesaro, ma è avvenuto per tutte le parti del nostro territorio. Una regione che, rispetto agli anni precedenti, ha visto anche nuove competenze, ed è per questo che oggi la regione probabilmente è anche più presente, perché oltre alle deleghe legate alla formazione, al turismo, al lavoro, alla difesa del suolo, quindi anche alle legate, al mondo delle imprese, quella dell'infrastruttura ce l'aveva già, però oggi diciamo che la regione è rimasto l'unico ente sovracomunale che in qualche modo può gestire e può coordinare tutti questi aspetti. Quindi è una regione che è vicina, ripeto, ai territori. Oggi si è parlato molto di infrastrutture, della Fano Grosseto, della ferrovia adriatica, si è parlato del passaggio delle strade ex Anas, di ulteriori strade che si è riusciti a passare all'Anas, quindi veramente si è parlato di strutture ospedaliere, quindi veramente di infrastrutture importanti che andranno a modificare e a ridisegnare quello che sarà il futuro dal punto di vista infrastrutturale dell'intero territorio, ma con dei risultati, perché fino a qualche anno fa si parlava anche di queste infrastrutture in maniera come se erano cose che non si capiva quando sarebbero venute, oggi parliamo di tempi e di reali possibilità perché gran parte di queste infrastrutture sono finanziate. Non ultimo il sindaco ha ricordato anche quelli che sono gli investimenti che saranno comprevisti da autostrade, sia nella città di Pesero sia nella città di Fano, investimenti in totale di circa 150 milioni di euro che anche questi andranno a ridisegnare la viabilità sicuramente di questa parte del nostro territorio. L'arretramento della ferrovia non è un sogno utopico, ma potrebbe concretizzarsi in maniera tangibile? Sì, RFI, quindi ferrovie, stanno valutando, cioè innanzitutto hanno come obiettivo di velocizzare la linea da Bologna fino in Puglia e stanno valutando qual è il tracciato migliore perché chiaramente nel tratto pesarese il tracciato ha una serie di curve e non permette facilmente di raggiungere i 200 km all'ora, quindi in ogni caso sarebbero interventi importanti. Quindi stanno valutando sia economicamente sia proprio come percorso se migliorare il tracciato esistente oppure farne uno in alternativa in prossimità dell'autostrada. Per quanto riguarda questa ferrovia devo dire che la linea tracciata dal Ministro è quella di fare in modo di accelerare la linea adriatica ma anche la linea che va da Orte a Falconara. Mentre inizialmente si parlava sempre di riuscire in qualche modo a raddoppiare, mi riferisco soprattutto all'Orte a Falconara, ma vale anche per la linea adriatica, oggi la linea delle DRF e del Ministero è quella di rettificare, cioè di andare a togliere, eliminare tutte quelle curve che non consentono al treno di raggiungere velocità di oltre 200 km orari, si è capito che facendo piccoli interventi, piccoli ovviamente in una dimensione che è quella di miliardi di euro quando si parla di ferrovia, piccoli interventi è possibile riuscire a ottenere dei risultati ottimi anche in tempi sicuramente più brevi. Questo progetto dalla linea adriatica è veramente molto interessante perché, come ha appena detto l'archedetto Goffi, ci permetterà di avere veramente un'infrastruttura verde nel nostro territorio che probabilmente sarà una delle infrastrutture verdi più belle sicuramente a livello internazionale. Oggi sono stati fatti vedere esempi di infrastrutture legate alla città di New York, quindi pensare di poter trasformare, di non utilizzare più un attuale tracciato ferroviario ma di riuscirci a realizzare quella che vengono definite le greenway sarà sicuramente una bellissima cosa che andrà sicuramente a migliorare la qualità della vita di tutti quelli che sono i cittadini che vivono in questo territorio e sarà anche l'occasione il motivo per fare in modo che le persone decidano di venire a visitare il nostro territorio perché è un'infrastruttura di questo tipo, sarà un'infrastruttura che vorrà sicuramente essere visitata e utilizzata anche da persone non di peso, solo di fano. La bellezza non è soltanto fine a se stessa ma è utile e anche propedeutica a un'economia, allora possiamo dire? Ah beh, assolutamente, nel senso che la parte turistica è una parte economica sempre più importante delle marche sia della parte interna delle marche sia per quanto riguarda la parte costiera e sotto questo profilo gli investimenti portano attrazione sono elementi che fanno sì che anche dall'estero si possa frequentare i nostri territori ci sia l'interesse a frequentare i nostri territori la ciclovia per esempio è un aspetto importante perché già all'estero dove ci sono le ciclovie portano anche tanti italiani ad andare all'estero e percorrere, immaginiamo quella di Santiago o altre, percorrere dei tracciati anche lunghi visitando dei posti con un modo particolare che è la lentezza della bicicletta quindi apprezzandoli in maniera particolare anche in questo caso perché io riporto sempre come c'è questo progetto della ciclovia diatica che è veramente importantissimo proprio la scorsa settimana c'è stato un incontro con le sette regioni che sono direttamente interessate da questo progetto come regione Marche ci siamo candidati ad organizzare, stiamo organizzando il primo incontro tra tutte le sette regioni per costituire un tavolo di coordinamento tra regioni perché il ministero chiede che ci sia un capofila che coordini un po' tutto il progetto questo verrà fatto entro qualche settimana in Ancona quindi dove verranno tutte e sette ci saranno tutte e sette le regioni per poi decidere chi sarà di queste sette regioni la regione che avrà il compito formale cioè formalizzato di coordinare il tutto quindi andare al ministero chiedere i soldi sia per la progettazione perché prima bisogna sempre progettare e poi in base ai progetti riuscire a realizzare devo dire che la città bisogna riconoscerlo perché anche la città di Fano soprattutto in questi ultimi anni sta puntando molto sulle ciclabili anche sulla ciclovia adriatica so ho già incontrato i tecnici che hanno presentato questo progetto che dovrebbe consentire di collegare Fano con Sinegaglia un progetto che può sembrare ambizioso ma che nella realtà se siamo veloci velocemente qualche anno a fare questo progetto potremmo anche individuare le risorse cioè usare le risorse ministeriali per poter fare un progetto che difficilmente probabilmente i due comuni riusciranno a fare in maniera autonoma devo dire che è uscito comunque un bando regionale anche da questo punto di vista di circa se non sbaglio 4 milioni di euro che finanzia i percorsi sulle ciclovie adriatica quindi finanzierà sicuramente anche questo bando l'unica questione è che noi finanziamo fino a un massimo comunque importante di 400 mila euro di intervento in questo caso forse si può arrivare anche a un milione però comunque l'interno tracciato costerà sicuramente di più e quindi riuscire anche ad agganciare i finanziamenti ministeriali è importantissimo per riuscire a realizzare quest'opera in tempi più veloci possibile ecco visto che si parla di futuro e di progettualità vi voglio fare una domanda che riguarda proprio il futuro nei vostri ambiti il futuro delle regioni quale sarà? sostenere, affiancare o indirizzare secondo lei? oggi attualmente la regione non è un ente più di sola programmazione ma un ente anche di gestione devo dire che non è semplice perché poi quando tu gestisci devi come dire veramente confrontarti e avere bene in mente di quelle che sono le esigenze del territorio perché un conto è gestire conoscendo il territorio bene cioè direttamente un conto è gestire per altri io penso che nel futuro dipenderà molto dal ruolo che avranno le province oggi le province sono rimaste in un limbo che non si capisce bene cosa debbono fare o meglio si sa cosa devono fare ma probabilmente nel futuro non sarà ben chiaro se sarà questo che dovranno fare le regioni si sta parlando molto di come dire di mettere insieme le regioni può essere sicuramente un'idea importante però secondo me a una messa a una fusione delle regioni deve sicuramente anche seguire una maggiore individuare quale sarà l'ente che poi sarà intermedio tra le regioni più grandi e i comuni quindi capire quello che sarà il futuro anche della stessa provincia invece il futuro di chi progetta e chi poi decide anche lo skyline l'abitabilità degli ambienti nei quali vivremo nel futuro quale deve essere in questo caso la regione ha un aspetto programmatorio fondamentalmente per la parte urbanistica ed edilizia ha ricevuto delle deleghe per quanto delle competenze che provenivano dalle province ma questo è legato alle infrastrutture in particolar modo per quanto riguarda invece tutto l'aspetto del paesaggio l'aspetto urbanistico l'aspetto principale della regione è programmatorio il resto rimane in capo fondamentalmente alla fine ai comuni quindi la regione in questo caso ha un ruolo fondamentale per indirizzare recuperare finanziamenti gestire i finanziamenti europei quindi è stare al fianco soprattutto dei comuni che sono gli enti poi operativi sul territorio che realizzano le piazze le pavimentazioni o la qualità urbana chiaramente il ruolo come dico di coordinamento diventa importante soprattutto come si evidenzava prima per il recupero dei finanziamenti perché spesso sono opere così importanti che i comuni non riescono da soli a finanziarle immaginiamo soprattutto poi i comuni più piccoli le province ruolo di collegamento tra le stanze dei comuni la regione anche in una programmazione futura per ridisegnare tutta la panoramica e quello che sarà lo scenario dei prossimi 15-20 anni soprattutto ripensare i modelli pianificatori il sindaco Ricci in questa progettazione Pesaro 2030 poi già in parte partita con la coprogrammazione con il comune di Fano io con loro ho condiviso anche un periodo all'interno dell'amministrazione provinciale dove avevamo coprogettato al 2020 è un lancio strategico importante che va nella giusta direzione noi come amministratori provinciali abbiamo l'obbligo di confrontarci per ambiti ottimali o territoriali intercomunali affinché queste coprogrammazioni o progettazioni al 2030 possano poi confluire in una dimensione di carattere provinciale quindi abbiamo preso lo stimolo del sindaco di Pesaro e di alcuni spunti che anche il sindaco di Fano hanno lanciato sulla pianificazione al 2030 e la provincia oltre all'ambito di pianificazione urbanistica ha anche alcune deleghe specifiche sulla progettazione del servizio idrico integrato della gestione dei rifiuti anche su quella la sfida è quella di far confluire all'interno di queste progettazioni una visione strategica del territorio al 2030 quindi stiamo lavorando in questa direzione nella prossima assemblea sindaci ci siamo presi l'impegno di far definire perlomeno degli ambiti ottimali dove i sindaci si dovranno confrontare con pianificazioni strategiche al 2030 la tragica carenza idrica di questi ultimi mesi ha messo in evidenza un ruolo strategico proprio di collegamento della provincia ma anche di voler non dipendere così insomma alzando gli occhi al cielo e guardare come va una cosa che ha citato nel suo intervento una cosa che ho detto più volte siamo riusciti in questi ultimi tre anni a ridefinire e ridisegnare una strategia all'interno dell'ambito depurativo e anche acquedottistico usciremo dall'infrazione europea nell'arco dei prossimi due anni cioè al 2019 si dovrebbe concludere un'infrazione europea che nasce nel 1998 con investimenti importanti quindi innalzando anche la qualità del servizio in ambito depurativo l'altra sfida strategica era quella di avere un sistema acquedottistico che non dipendesse troppo dalle acque superficiali siamo riusciti proprio con la coprogrammazione anche con i gestori ASET e Marche Multiservizi a individuare dei punti di raccordo della progettazione quindi delle captazioni sul territorio affinché poi tutto il territorio avesse un beneficio di tipo gestionale in questa carenza idrica che abbiamo avuto nel 2017 siamo stati bravi proprio per la professionalità dei gestori a garantire un servizio continuo senza razionare acqua e c'è stato riconosciuto questo anche a livello ministeriale con uno stanziamento ad hoc proprio per uscire da questa emergenza idrica che ormai si ripete da troppi anni nelle prossime settimane sono già state individuate alcune riunioni operative proprio per mettere in campo una serie di investimenti che già erano previsti all'interno del piano del lato idrico e quindi diciamo che siamo stati bravi che questa capacità di visione l'avevamo in alcuni ambiti come quello idrico lo stiamo facendo anche sull'ambito dei rifiuti anche da questo punto di vista il confronto costante e continuo sia con i sindaci del territorio che con i gestori penso che possa portare dei benefici sia del tipo gestionale che economico per i cittadini nelle nuove funzioni ridisegnate delle province anche per il futuro il compito di essere un po' delle sentinelle dell'ambiente e a favore anche dell'ecosostenibilità diventerà sempre più importante io un bagaglio che mi porto dietro anche da amministratore del mio comune che è il comune di Peglio molte delle progettualità sono legate alla sostenibilità ambientale la provincia in questo contesto è allargata un po' come casa dei comuni tutte le amministrazioni comunali hanno come loro input in questo momento quello di mantenere il territorio il più salubre possibile avere il minore impatto possibile sulla gestione delle risorse primarie quindi penso che possa rappresentare uno degli obiettivi principali degli amministratori e in questo contesto anche la provincia come nuovo ruolo della casa dei comuni può rappresentare bene queste ottiche di ecosostenibilità territoriali grazie a tutti